Don Enzo Chiodo, parroco di Bivongi e Pazzano, siamo nel mese di maggio, il mese di Mariano, a Bivongi poi si ricorda questo mese perché gli anziani e i nostri anziani preparano gli alterini del centro storico e questa sera siamo nella cosiddetta zona Vigniceta, al ridosso di via Martini, dove ci sarà la messa. Come ogni anno celebriamo alcune messe proprio dentro il centro storico proprio per dare la possibilità anche degli anziani che non riescono a muoversi durante la settimana e quindi noi veniamo incontro come comunità parrocchiale proprio per stare vicino a loro perché loro sono la memoria storica del nostro paese. È significativo che questa sera celebriamo qui, proprio in questo luogo, a due passi dalla casa di Tommaso Martini, un grande autore, un grande pittore che ha davvero raffigurato in tanti modi, in tante maniere la bellezza della Vergine Maria ed è molto bello. Un vero devoto, ma anche un grande artista capace di dare all'immagine della Madonna tante sfumature come in fondo la Madonna in quanto madre e maestra di vita spirituale. Veniamo ai giovani, quando ci saranno questi anziani? Secondo lei continueranno queste tradizioni? A me pare di sì perché vedo che c'è qualcuno che è attento perché lei è seguito anche dai giovani. Sì, dobbiamo trovare però le nuove forme per far innamorare i giovani della Madonna e oggi non è facile perché in un contesto in cui viviamo solo di immagini viene difficile ai giovani per esempio percepire il valore del rosario, ma anche a molti adulti. questa generazione di anziani è stata educata a pregare accanto al focolare il rosario e quindi è chiaro che continua a percepirne tutta la bellezza. I nostri giovani hanno bisogno di recuperare il valore del rosario come preghiera rivolta a Cristo per le mani di Maria, ma anche i nostri giovani hanno bisogno di guardare a Maria per capire la loro vocazione e anche la don Enzo si impegna tanto nell'arco dell'anno, anzi pensa di coinvolgere anche le associazioni per mantenere non solo questa tradizione, ma anche tante altre tradizioni nel paese che si stanno perdendo. Vorrei dire anche a livello di questi degli altarini, a livello religioso, che Vivongi non si ferma solo a Mamma Nostra, perché tutti siamo attaccati a Mamma Nostra. Forse abbiamo i santi di serie A e di serie B. No, è chiaro che il mese Mariano è un mese che ci stimola, stimola tutta la Chiesa a vivere la devoluzione alla Madonna e Vivongi ha questi ritmi anche molto naturali, molto belli che ricordano la valenza spirituale della Madonna. La Madonna è una donna che ancora oggi parla a noi, proprio perché è stato un modello di fede, un modello di obbedienza, un modello di santità alto e quindi credo che in questo senso non finirà mai la devoluzione alla Madonna. Certo anche le associazioni stanno assumendo sempre di più questo ruolo di custodi di quello che di bene ci è stato trasmesso, ma certamente le associazioni hanno questo grande compito di traghettare e di far sì che le nostre tradizioni diventino parlanti per l'oggi. Penso per esempio alla festa della mamma che abbiamo celebrato insieme al centro anziani, certamente quel momento è stato un momento bello, loro ci stanno ricordando in un momento in cui la festa della mamma è diventata solo commerciale il valore di una madre e quindi anche la missione di una mamma e oggi c'è tanto bisogno di recuperare la missione di essere madre nei nostri territori, appunto perché l'aver rinunciato ad essere mamme e quindi ad esprimere la maternità ha provocato una mancanza di tenerezza e una mancanza di umanità anche nei nostri ambienti più piccoli. Ricordiamo la memoria di Santa Rita, anche questa è una donna attuale, una mamma, una sposa, una donna che ha saputo scegliere la via del perdono e non la via della vendetta e che ha tanto pregato da convertire, da ottenere dal Signore anche la conversione del suo marito. Come vediamo i Santi insieme alla Madonna ci precedono sempre nel nostro cammino. Una mamma santa genera figli santi e questo è l'agurio più bello che facciamo in questo mese mariano. Alleluia!